Eccolo lì il cavo della frizione, vedete? Arriva sulla campana della frizione in quel punto lì, ok? Ora andiamo a vedere la ghiera da stringere in dettaglio. Ecco, qui entriamo nel particolare, vedi? Praticamente non devi fare altro che avvitare questa ghiera qui, vedi? Poi si blocca con questo pernetto di gomma. Avvitando, praticamente non fai altro che tirare il filo. Tirando il filo, le marce entreranno meglio. Vedi? Molto semplice. Ok? Ragazzi, io consiglio sempre di cambiarlo il cavo della frizione. Come vedete questo è integro e dopo un po' di chilometri va cambiato. Anche se voi fate la prova, questa prova qui dice, ma a noi mi sembra che scorre. Sì, scorre, adesso. Però, quando sta sotto sforzo, poi il cavo fa tutta una serie di giri dentro il cofre. La situazione è diversa da questa, ok? Costa una quarantina d'euro, vi levato il pensiero. Ciao ragazzi, un saluto da Zientoni, in gamba.